L'esercito Mi sto facendo portare acqua Allo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi faccio vedere un po' cosa accade. Sette fiati? Sette dei fiati qua. Hey dancers. Ciao. 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 To Be verdade. Quest'è Matteo è vero. Guardo alla pettinatura della band. C'è stata. Riccardo Locchetti va che sto qua mamma mia. posso farti complimenti? Grazie grazie. grandchildren bravo. Maestro eccoci qui nel camerino dei musici. Maestro. Maestro domani, lei domani è... dov'è domani? molto presto a Sanremo con chi? dici la serata con Emma tutti occupi degli arrangiamenti anche per Emma questa sera dirigo il grande metto lì ma poi il 4 febbraio Emma lo guardiamo a Sanremo che puntata di Sanremo? alla prima vediamo un po' Kerry sei un po' dimagrito? insomma Mattia Zepponi pronto con la tromba sei pronto? la tromba che non hai lasciata sul palco aspetta che questo è il video facciamo che è a un secondo mi hai fatto venire in mente che mi sono dimenticato gli occhiali hai scelto da prenderli ti ringrazio ci mi è venuta fuori grazie a tutti powerfull questa sera è arrivato il momento dello show quindi io mi preparo questo è il mio camerino questa è la giacca della serata questa è la giacca di questa sera queste sono le scarpe ufficiali anche sfocate sono venute i near monitor adesso li mettiamo per il momento vi saluto guardatevi resta delle immagini che sono belle grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie. Dopo un pezzetto di Johnny Bigood lo proviamo, no dopo con lei. Grazie. 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 Grazie.